Il 23 maggio Biagio Izzo a Crotone per uno spettacolo organizzato da te. Sì esatto, in località Passo Vecchio al centro studi dentali Auditorium Marrelli al Cameon faremo questa serata all'insegna del divertimento della spensieratezza, artisti in palcoscenico per Unicef quindi una serata solidale di teatro e arte con, ci sono io in scena, Nicodemo Bilotta, Dorotea Licausi e la partecipazione straordinaria di Biagio Izzo. Ti aspetto una bella partecipazione? Io me lo auguro, i biglietti sono disponibili nei nostri punti vendita che sono MM, abbigliamento, accessori e Civico 56 in Via Cutro. Poi sulla nostra pagina Facebook, Quitti Senza Carrozzone, troverete tutti i punti vendita Pizzeria Mia Culpa e tantissimi altri. Ma Biagio Izzo non ha mandato nessun messaggio? Come no, Biagio Izzo ci tiene a invitarvi personalmente lui ed ecco il suo invito ufficiale. Eccomi qua la nucia importante, il 23 di maggio vi aspetto all'Auditorium Alcmeon per una serata all'insegna del divertimento. Mi raccomando vi aspetto, non mancate, 23, usce, eccomi qua.